Stiamo vivendo un periodo in cui tutto si è fermato, anche lo sport. Per esempio durante le guerre è proseguito in qualche maniera e molto probabilmente ripartirà anche adesso in qualche maniera. Lo scenario che si va profilando è quello delle porte chiuse. Non ci sono alternative ed è giusto così, ma chi ama lo sport lo sa che non è la stessa cosa. Questo mi ha fatto venire in mente un aneddoto che ho sentito qualche anno fa. Mi sono sempre chiesto dove è nato il termine Ultras, ma non sapevo che fosse anche un acronimo di una frase di senso compiuto e molto diretta direi. La parola Ultras arriva dalla Francia del 1815, nel periodo della seconda restaurazione, ed indicava gli ultra realisti che erano il partito preponderante e, che possiamo paragonare, all'estrema destra odierna. Oggi è una parola universale. Tutte le tifoserie organizzate si rispecchiano in questo nome, che non può essere raccontato al termine inglese hooligans, e la differenza sta proprio nell'organizzazione. Diciamo che gli hooligans sono quelli che improvvisano di più le loro azioni e sono indirizzati a svolgerle all'esterno degli stadi, mentre gli ultras nascono come gruppi di supporto, con l'utilizzo di tamburi, megafoni, eccetera, purtroppo vietati nel 2009, per incitare con cori la propria squadra e quindi con l'attenzione rivolta all'interno dello stadio. Calcio e politica si sono sempre mischiate. Infatti, i primi segnali di tifo organizzato si hanno addirittura nel 1932, con un gruppo di tifosi della Lazio, più precisamente della Paranza Aquilotti, che inscenò durante un derby una scenografia allo stadio del Partito Nazionale Fascista. Ma è dopo la guerra che il fenomeno cresce. Nel 1951 ci sono i primi tifosi a riunirsi in gruppo, di Roma, Lazio e Torino, quindi arriviamo ai mitici anni 60. La prima tifoseria organizzata della storia sono i Commando Stigre nel 1967, seguiti a ruota dalla Fossa del Leone, entrambi della Curva Sud del Milan. Scusate il tono fiero, ma sono di parte. Ma eccoci. L'anno dopo, il terzo gruppo organizzato della storia utilizza per la prima volta in assoluto questo termine, cioè Ultras Tito Cucchiaroni della Sampdoria, che non usano questa parola come richiamo politico o al passato dal quale deriva, ma la fa propria. E un po' anche dei cugini del Genoa, direi, considerato il fatto che la traduzione che gli danno è... Uniti legneremo tutti rosso-blu a sangue. Metto in descrizione i link di tutto quello che si può trovare su YouTube, mentre qui vi cito il primo film a riguardo, Ultra di Enricchi Tognazzi con Claudio Amendola e Enricchi Memphis del 1991, ma anche l'ultimo Ultras di Francesco Lettieri, film di quest'anno e che consiglio vivamente. Sì, lo so che durante il video è venuto fuori che sotto l'aspetto della violenza gli Ultras sono meglio degli Hooligans e poi, conoscendo l'argomento e scoprendo come nasce, può venire qualche legittimo dubbio, però il colpo di scena c'è stato. Comunque la storia è questa e non siamo qua a giudicare, ma solo a raccontarla. Grazie a tutti.